Fred Film Radio, Torino Film Festival edizione numero 35, sono Angela Prudenzi in compagnia di Davide Ferrari, benvenuto. Grazie. Davide, qui a Torino con un film, il tuo ultimo film è Cento anni, che ha un sottotitolo che voglio leggere. La storia italiana e le sue caporetto, un viaggio attraverso le sconfitte e le riscosse dal 1917 ad oggi. È importante il sottotitolo perché tu racconti cento anni di storia attraverso quattro episodi, quattro momenti che secondo te sono particolarmente significativi. Il primo appunto è la sconfitta di Caporetto e la tragedia di Caporetto. Sì, è il primo che però è anche quello che dà il modello, lo schema a tutto quello che viene dopo, perché l'idea del film non è tanto di pensare che Caporetto è il motore del secolo dopo, ma che durante il secolo, il novecento soprattutto, abbia avuto molte Caporetto. E che questa idea della sconfitta, della tragedia necessaria, come dice anche il titolo di un bel libro di Mario Snenghi, sia connaturata al popolo italiano. Noi non siamo un popolo che va dritto, che fa le rivoluzioni, noi siamo un popolo che ha bisogno della catastrofe e dalla catastrofe riemerge costruendo qualche cosa di buono. Naturalmente non è che la vittoria poi cancella la sconfitta, c'è un prezzo da pagare. E in questo senso quello che abbiamo cercato di raccontare in cento anni è proprio questo, come queste sconfitte Caporetto genera il fascismo, le questioni non risolte del dopoguerra, secondo dopoguerra, generano poi gli anni settanta, la lotta armata, e tutte le questioni del novecento alla fine portano a una situazione contemporanea dove la Caporetto è la Caporetto demografica. Cioè sostanzialmente in un momento in cui apparentemente non ci sono problemi, sì certo c'è la crisi, ma rispetto, se pensiamo, alle immani catastrofe, alle guerre del novecento, stiamo parlando di cose molto meno problematiche. Ecco, in questa situazione che dovrebbe essere in qualche maniera ideale, gli italiani non ci sono più. Si stanno, l'Istat ancora l'altro giorno ci ricordava di come gli italiani sostanzialmente si stiano estinguendo nel silenzio. Infatti questi, i primi tre momenti di cui tu ti occupi si portano dietro delle morti, perché la caduta del fascismo, la fine della guerra, comunque un momento in cui si sono fatti purtroppo i conti e si sono fatti anche uccidendo. Certo, il novecento c'è questo. Io sono un uomo del novecento, sono nato nel cinquantasei, ho vissuto quella metà di secolo. È curioso il rapporto che abbiamo oggi con il novecento, perché da una parte si lamenta spesso, credo, la mancanza di ideali, di grandi orizzonti di oggi rispetto a quelli del novecento, ma è pur vero che in nome di quegli ideali, di quegli orizzonti, di quegli grandi movimenti di popolo si è ammazzato e ci si è fatto ammazzare in una maniera terribile. Il novecento è un secolo di massacri e però portava dentro di sé una speranza di un miglioramento in qualche maniera che adesso non c'è più. E quindi il film è diviso in tre parti che parlano di quel secolo dei morti e cercano di rispondere a quella domanda a cosa sono serviti quei morti è una parte finale che parla dell'oggi all'insieme di un'altra domanda altrettanto dura e paradossale a cosa servono i vivi. Poi tu parlavi di questo rallentamento della crescita demografica, anzi, più che rallentamento stiamo proprio... Io questa cosa qua a me mi colpisce molto, era anche il finale di Piazza Garibaldi, di un altro film sulla storia italiana cinque anni fa. Qua continuiamo a scontrarci sulla politica, su tutte le cose che sono importanti, non dico di no, ma nessuno sembra considerare un fatto più clamoroso di tutti e che è questo, cioè che gli italiani non è un rallentamento delle nascite. I demografi ci dicono che tra 50 anni questo è un paese di 10 milioni di italiani tradizionalmente considerati tutti vecchi. Tra l'altro vedendo il film mi è venuto da pensare che questi non nati sono anche loro dei morti. Ma esattamente. È un prolungamento ideale, terribile. È così, ma infatti torno a dire, ed è drammatico davvero che questo pensiero, un po' sembra un pensiero da muletto, da italiani che dicono no ma questa roba non ci pensiamo perché pensiamo, ma dovrebbe essere la priorità della politica, di qualsiasi formazione politica. Cioè pensare che siamo in una situazione in cui ci stiamo semplicemente estinguendo. Allora anche temi come l'immigrazione cambiano di senso dentro questa prospettiva qua, non è più noi con loro, è davvero qualche cosa che sta nei numeri e che invece si lascia così, si lascia perdere. Tu usi all'interno del tuo film dei diversi linguaggi, la ricostruzione con attori ai quali fai leggere le lettere del fronte, materiale d'epoca, testimonianze. Questo miscelare si adatta molto a questo racconto del Novecento. Personalmente ho trovato il momento inevitabilmente più emozionante, più emotivamente toccante la ricostruzione di quanto è avvenuto a Brescia. È inevitabile. Sì, è inevitabile perché guardi davvero negli occhi le persone che c'erano e i figli delle persone che c'erano e che ci è stato coinvolto. E quindi nonostante quella parte sia stata volutamente raffreddata in bianco e nero, come se facesse parte di un passato, ma lì c'è un'attualità di queste persone che ti raccontano. Poi tra l'altro, devo dire, senza retorico alcune, tutti con una grandissima semplicità, anche nei momenti drammatici, cosa ha significato quella bomba, quella storia. Però ecco, sì, io non volevo raccontare, non ero un film a tesi e per questo i quattro episodi hanno ciascuno una dinamica, uno stile completamente diverso. Perché ogni storia deve essere raccontata in modo specifico, autonomo, e poi tutto insieme, credo ci sia un filo rosso che tiene insieme tutto. Però anche una maniera di sperimentare, perché penso che quando racconti la storia con la S maiuscola non puoi semplicemente accontentarti dei fatti, perché la storia stessa, S maiuscola, anche una storia con l'S minuscola, è una narrazione. E quindi i modi della narrazione influiscono su quello che dice, che capisci di quella vicenda La storia sta influenzando molto i tuoi ultimi lavori. È un lavoro sulla memoria anche, no? È sulla necessità di non dimenticare, per dirla in maniera banale, però è questo. Sì, anche se Primo Levi, che sicuramente era uno, appunto, che nel 2005 ha fatto la strada di Levi, era uno che ha combattuto tutta la vita perché non si dimenticasse, diceva anche non si può ricordare tutto perché sennò non si vive più. Quindi la verità sta tra la necessità di ricordare le cose che serve ricordare e anche la capacità, in qualche maniera, di dimenticare quello che è necessario dimenticare per andare avanti, perché sennò resta davvero la società. Per fortuna ci sono le nuove generazioni che non pagano quello che hanno pagato quelle prima, perché possono ricominciare da capo. Quindi è un gioco dialettico tra la necessità di ricordare cose fondamentali e la necessità altrettanto forte di lasciare perdere dalle altre. Grazie Davide Ferrario. Ricordo cento anni al Torino Film Festival e mi piace aggiungere che il film esce il 4 dicembre nelle sale con la bottante che è una coraggiosa casa di distribuzione. Angela Prudensi, Fred, The Festival Insider. Grazie a tutti.